Sono tutti da Mississimi Joe Jackson ora cominciamo a sentire un vecchio pezzo di Louisiana Red un pezzo che mi ha scritto da circa 60 anni fa ma che ancora anzi è diventato molto attuale parlo di chi sta al sud non si trova bene si sposta su, si sposta sempre più su e non lo fanno stare come si deve non gli fanno mangiare da un pappai in strada cercano la deserci dopo il pappallo mio il bello testo è questa roba qua e win the Rhydo Red and Luziana Red Rhydo e Luziana Red ride only ride only like, di un po' in questo it's atentate atentate e inche, all I'm telling has fuori di stare come Grazie per avermi capito. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti